Studenti, domanda dalla decina, è un momento dove diventeremo dipendenti completamente da questi scritti, noi non dipendiamo da loro, questi scritti entreranno dentro di noi, diventeranno immersi dentro di noi e noi semplicemente vedremo che questi non sono dei testi, questi sono il nostro sistema interno, tutti gli scritti di Kabbalah, quelli veri, autentici, sono stati scritti dalla sensazione del sistema interno, questo è quello che un Kabbalista ha scoperto ed è così che anche noi li sentiremo, questo riguarda il nostro sistema interno, ognuno di noi è insieme, il sistema è chiamato Partzuf, Olam, Mondo, questo è tutto quello che esiste in tutti gli articoli, i testi dei Kabbalisti, come rivelare questo sistema, questa struttura ed è così che noi lo scopriremo.